Il cieco Romana Castro l'ha iniziato il 2021, come aveva finito il 2020, vale a dire vincendo sia le qualifiche sia la round finale con il tempo di 5 minuti 11 secondi 805 sui 6 giri previsti. Ottimo secondo posto per Franco Franco Fusi. Fusi è stato con la sua Renault Clio uno dei più regolari durante l'intera giornata. Una soddisfazione anche per Matteo Valazza che con la sua Citroën Saxo ha saputo conquistare un buon terzo posto tra le Super 1.600 e l'auto forse più competitiva e l'ha sfruttata al meglio. Nils Volland con l'Audi A1 ha vinto la sua gara in 4.45.493. Ottimo il debutto di Paolo Diana con l'Alfa Mito che è sembrato essere sempre più a suo agio nel rallycross e ha concluso la finale a soli 3 secondi e 9 dal vincitore. Silvano Rugga con la sua cria ha ottenuto il terzo posto finale. Colpi di scena a ripetizione nella categoria come sempre più partecipata ed emozionante, vale a dire il kartcross caratterizzata da un altissimo livello. Dopo che la classifica delle qualificazioni aveva premiato un grandissimo Marco Berniga nella finale è successo veramente di tutto. Mauro Vicario è riuscito a superare indenni uno scontro che aveva causato il ritiro tra l'altro proprio di Berniga e sembrava lanciato verso una straordinaria affermazione ma è stato superato al tornantino nel giro finale da Marcello Gallo che ha ottenuto così la sua prima vittoria. La vittoria ha reso giustizia alle sue capacità di gestire una situazione complicata da problemi di potenza al motore che lo hanno afflitto per tutta la giornata. Vicario è comunque riuscito a ottenere una bellissima seconda posizione seguito da un arrembante Matteo Greco. Il round 2 del campionato italiano rallycross rappresenterà una delle grandi novità del 2021. Ci sarà infatti l'8 e 9 maggio a Castelletto Circuit di Castelletto di Brandizzo in provincia di Pavia.